Marcia indietro da parte del comune dopo l'osservazione dell'amministrazione provinciale alla variante al PGT a difesa dell'area boscata che fa parte del parco sovracomunale del Po e del Morbasco e si estende tra via del Sale e via Lunga Stretta dove raggiunta Galimberti intendeva realizzare un ampio parcheggio da circa 240 posti per ridurre il traffico di via Giordano. L'ex assessore Federico Fasani ha accolto l'occasione per segnalare che l'amministrazione incontra lo stesso problema ambientale di chi chiede la strada sud che passerebbe nella stessa zona. Dal comune però arriva tutt'altra versione sostenuta dall'assessore Alessia Manfredini e cioè che quell'area vera di via del Sale dove scorrono le acque del Morbasco è stata dimenticata a lungo e trascurata per troppo tempo così come la previsione di parcheggio indicata già dal 1983 ma è realizzato in 35 anni. Quindi è stato deciso dall'assessore all'ambiente con delega anche alla viabilità e all'infrastruttura di trovare un mix in vista del progetto di riqualificazione di via Giordano all'interno del nuovo piano urbano della mobilità sostenibile. Così l'osservazione di Corso Vittorio Emanuele II è stata accolta col risultato che l'area verde nella variante al PGT è stata ampliata fino ad arrivare a 5.000 metri quadrati diventando più grande della stessa area servizi con parcheggio 4.000 metri quadrati. Di conseguenza l'area verde attualmente non utilizzabile per il cattivo stato di manutenzione verrà dotata di attrezzature utili per la fruizione da parte dei cittadini. Oggi ci sono solo alcune panchine e le segnalazioni del degrado dell'area si ripetono. I residenti hanno inoltre protestato più volte per le cattive frequentazioni. Il parcheggio avrà quindi più di 100 posti ma sarà meno ampio di quanto ci si aspettava più di un mese fa. L'ingresso è previsto da via Giordano dove la sosta è particolarmente ambita. Oggi le automobili provenienti da via del Sale invadono anche via Boscone alla ricerca di spazi liberi e l'amministrazione ha già chiesto all'AIM di realizzare nuovi parcheggi in altre aree sotto stress come via Dante.